Ok, Pavanese è bello ragazzi, non stai facendo il video, bisogna suonare la campana, no, devi già guardarle già, però qua non sono anche di quelle fossegne, l'importante è che quando andiamo giù, adesso il Frizzaro dovessi mettere i piedi senza farmi passi profondi. Tanto se parte l'ultimo, mi canza tutti, finito le roccette, poi si prendiamo i bastoncini.